Eh, grazie. Fausto, io ero bambino, a parte che aiutatemi che passano altri ex giocatori, mi aiuti. No, governa, va via qui. Fausto, mi racconta la magia di Cantù, lasci stare Meneghin. Ho intervistato in lungo di recente Marzorati sulla sua storia. Mi racconta perché Cantù è magica e soprattutto vorrei un ricordo di Denis Innocentin, che io non ho mai incrociato. So che andiamo sui sentimenti, ma... andiamo molto indietro nel tempo con Denis, abbiamo fatto tutte le giovanili insieme e purtroppo... Purtroppo, diceva? E' scomparso quando? Egli è... Mi aiuti, Pippo Faina, no? Pippo Faina, sì. Vedi che sono bravo? No, Bagna non l'avrei mai riconosciuto, ho sentito che è stato... Faina... Faina, posso rubarle un minuto dopo di lui? Va via? Anche subito? No, aspetta, aspetta. Mi dice... Faina, non vada via. Chi è questo signore? Il mio figlio. Eh, non me lo chiede? No. Fausto, mi dice i cinque. Mi porta via. No, volevo fare la sua vita. Cinque? No, passo a... Cinque no, farei torto qualcuno perché sono tutti forti. Allora, vado, ro...